Siamo in Orto San Marco, nel cuore di Rovereto, di fianco al cimitero di San Marco. In questo spazio abbiamo sviluppato un'attività agricola con produzione e vendita di ortaggi, con attività didattiche e divulgative e soprattutto con un gelseto di circa 500 piante di giovani gelsi. Differenti varietà scelte insieme all'Istituto Crea di Padova per valutare e testare le varietà attualmente utilizzate in gelsi bachicoltura anche in Trentino. Con queste piante alleviamo bachi poliibridi scelti e selezionati insieme all'Università di Trento. Infatti con l'Università di Trento e in particolare con il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con l'Istituto Biotech, con sede a Mattarello, stiamo sviluppando un progetto di ricerca che mira a valorizzare la seta prodotta in Trentino a scopo biomedico. I bozzoli grezzi vengono portati in università dove vengono studiati e valutati per l'utilizzo a scopo biomedico. Vengono utilizzati una volta sciolti e ristampati con le moderne tecniche di stampa 3D per ottenere protesi di vario tipo da impiantare nel corpo umano. In questo momento a livello mondiale le industrie farmaceutiche fanno difficoltà a reperire seta con caratteristiche costanti in termini di qualità, di struttura e di purezza. E quindi con l'Università di Trento stiamo valutando i processi per ottenere una seta dalle idonee caratteristiche per questo comparto. Le nostre 500 piante sono state coltivate con vari metodi. Alcune sono piantate con un metodo razionale, un gelseto intensivo dove le piante distano circa un metro e quaranta l'una dall'altra sulla fila e tra le file circa tre metri. Questa tecnica ci permette di ottimizzare gli spazi, produrre elevate quantità di foglia e soprattutto le piante potandole molto basse a circa un metro d'altezza sono comode e facilmente raggiungibile dagli operatori quando devono prelevare la foglia. Un'altra parte di gelsi sono stati invece coltivati in una rampa più difficilmente accessibile per capire come questa pianta possa svilupparsi bene anche in condizioni meno favorevoli e quindi poter in futuro essere ipoteticamente coltivata nuovamente anche nelle aree marginali del nostro Trentino. Tutte le nostre piante sono varietà che appartengono alla specie Morus alba, in particolare su questa rampa sono tutte giovani piante della varietà Restelli che vengono allevate in maniera leggermente differente rispetto alle altre. Queste vengono capitozzate a circa 20 centimetri di altezza e il loro portamento risulta quindi cespuglioso. È molto interessante la loro azione di contenimento anche del pendio e di limitazione della crescita delle malerbe in quanto nel giro di un paio d'anni dalla loro piantumazione ricoprono completamente tutta la superficie. Al centro di questa rampa si trova l'unico esemplare di gelso rimasto in questo appezzamento che abbiamo salvato e accuratamente potato.